Ragazzi questa sera sono da solo Siamo in chiusura, è martedì 2 settembre Mettiamo ancora tanta roba in acqua Oggi è arrivato uno scarico 100 kg di big Da 2 a 4 kg passati Perché ho detto da 2 a 4 kg sul video Ma sono usciti 3-4 elementi che erano grossi Ricordatevi sempre che il tubo Da dove vedete uscire i pesci È 330 mm Quindi è 33 di diametro Non è un 200 Comunque andiamo a mettere un quintale di pesce Questa sera forse qualcosa di più, 110 kg La gabbia la lascia aperta per quei pochi kg Che non riesco a prendere Quindi usciranno da qui a sabato Perché la prossima apertura ricordatevi che è sabato Quindi abbiamo sabato e 6 in quarto Davanti al cancello e 7 si comincia a pescare Quindi o usciranno quelle che sono rimaste O entreranno quelle che stanno nel lago Questa cosa non la sappiamo La scopriremo solo vivendo Intanto un quintale di pesce abbondante in acqua Ah no, deve abbassare la telecamera Questa vaffana cazzata Eh, lo sai quanti me le dicevate? Non lo so, ma raga Sono un po' ritardato La vecchiaia mi porta i ritardi Grazie a tutti Ola! vi ricordo 100 kg di big questo pomeriggio 100 kg questa sera sabato mattina fatemi vedere di che pasta siete fatti io ho le gabbie piene sabato sera arrivano le big per domenica altra quinta delle big pure per domenica per quando le piate io dico per domenica perché il giorno dopo quando le prendete le prendete per me va bene uguale ciao a tutti ci vediamo sabato alle 6 in quarto davanti al cancello quello più bello del mondo tutto il resto non so cancello è noia